Focaccine in padella con lievito istantaneo, velocissime e super buone. Metti la farina in una ciotola e aggiungi il latte e l'acqua. Unisci anche l'olio, un pizzico di sale e lievito istantaneo. Fai amalgamare tutto per bene e continua a lavorare su una spianatoia infarinata. Quando il panetto è bello liscio, stendilo fino a uno spessore di circa mezzo centimetro. Ritaglia le focaccine con un coppapasta e reimpasta man mano i ritagli per fare altre focaccine. Fai scaldare una padella, sistema le focaccine al suo interno e falle dorare a fiamma medio-bassa per una decina di minuti su entrambi i lati. Sono buonissime anche soli al posto del pane. Eh, ma con due fette di salame sono ancora meglio. Una merendina perfetta! Provala e fammi sapere, sono certa che ti piaceranno un sacco. Io assaggio. Buon appetito!